La padella di Prignas è un tozzo e massiccio di lievo calcario, alto circa 650 metri sul livello del mare e circondato da quasi tutti i lati da scoscendimenti precipiti che lo rendono quanto mai adatto alla difesa. Fu sede di un insedimento umano già nel Neolitico, come dimostrano frammenti di ceramica e piccoli oggetti in pietra rinvenuti in diversi punti. Il periodo più importante di occupazione sta però fra il XII e il VI secolo a.C., allorché il sito viene improvvisamente abbandonato senza segni evidenti di istruzione. La sommità del colle è costituita da un'ampia spianata di forma triangolare, dell'estensione di circa 11 ettari, con un modesto rilevo nella zona centrale, laddove saranno collocati gli edifici più importanti della città protarcaica. Oggi si presenta punteggiata in superficie da mucchi di pietrame che si rispondono anche a formate lunghi muri in origine di divisione di proprietà. Dalla Patela si domina un ampio panorama che va dal mare cretese al Monte Ida, allo Iuctas e alla pianura della Messerà, in un contesto paesaggistico e naturale ancora pressoché incontaminato. La sua posizione, quasi al centro esatto di Creta, nel punto di confluenza delle due strade principali che uniscono il nord con la parte meridionale dell'isola e la facilità difesa, ne fecero, a dispetto delle difficili condizioni meteorologiche che l'affliggono, un luogo privilegiato di insedimento umano nei difficili momenti che vanno dalla fine del marzo del bronzo al periodo arcaico. Il sito fu individuato per la prima volta da Federico Halber, che vi dedicò diverse visite, accompagnate in qualche caso dall'epigrafista americano John Alden, recuperandovi diverse epigrafi che furono poi pubblicate da Margherita Guarducci nel primo volume delle Iscrizioni Scretiche. L'attenzione di Halber, il quale segnala come la patella fosse in quel momento messa a coltura degli abitanti del vicino villaggio, i quali per far questo demolivano i resti delle numerose costruzioni antiche allora ancora visibili, si concentrò soprattutto su due punti dell'area della città antica. Il margine meridionale, dove i resti di una grande costruzione quadrangolare gli facevano sospettare che vi si potesse identificare un palazzetto di età intermedia tra quella micenea e l'età arcaica. E il margine orientale, dove i lavori agricoli avevano portato alla luce frammenti di statue di una divinità femminile dalle braccia levate, e i cosiddetti snake tubes. Questi materiali, affidati per la pubblicazione all'archeologo danese Sam Vide, facevano pensare all'esistenza di un santuario di età molto antica nel punto indicato. Tra gli altri materiali recuperati nel corso delle esplorazioni, anche un bel cratere protogeometrico affidato per la pubblicazione a Paolo Orsi. Su indicazione di Halber, anche Antonio Taramelli dedicò una visita alla patella di Prenias, nel corso della sua survey della Creta centrale. Egli segnalò anche la presenza nell'aria di due tombe scavate nella roccia, giudicate d'età ellenistica, ma in realtà di età romana imperiale. Nel 1906, Luigi Pernier, concluso lo scavo del palazzo di Festos, programmò un'esplorazione del sito di Prenias, che condusse per tre anni fino al 1908. In un primo momento lo scavo si concentrò nei due punti suggeriti da Halber, che però diedero risultati che delusero le aspettative. Il grande edificio del margine meridionale si rivelò essere infatti una fortezza di età ellenistica, dalla quale provengono materiali di grande interesse, iscrizioni funerari, una glianda missile con la menzione di Gortine, iscrizioni su un vasi con dedica ad Atena e, riempiegata nelle murature, steli arcaiche di carattere funerari. Una di queste steli proviene anche, probabilmente creuta dall'alto, dalla valletta di Cala, nei piedi della fortezza. La sua presenza fece pensare, avroniamente, che la necropoli arcaica del sito si trovasse in quel punto. Altrettanto effruttuose furono le esplorazioni subito abbandonate del margine orientale, dove il sottrissimo interro conservato non rivelò tracce del desiderato santuario dell'era del bronzo e solo altri materiali frammentari dello stesso periodo, fra cui una testa di statua del tipo descritto e uno snake tube traforato al giorno, fu possibile recuperare. Gli scavi sulla padella furono effettuati dal pernire con la tecnica, allora comune, dell'apertura contemporanea di decine di trincee o pozzi di saggio, fino ad arrivare al numero totale di più di 70. Le trincee rivelarono un'estesa rete di costruzioni antiche su tutta la superficie esplorata, ma nessuna di esse si rivelò tanto significativa agli occhi dello scavatore da richiedere nell'ampliamento, finché, verso la fine della seconda campagna di scavo, non gli si presentò una situazione di estremo interesse, al quale egli poi dedicò l'intera ultima campagna con la collaborazione del disegnatore Enrico Stefani. Nella parte centrale della spianata, infatti, in proprietà peristeri, il saggio di scavo rivelò la presenza di lastre scolpite e altro materiale scultorio, crollate davanti a un edificio a pianta rettangolare, formato da due vani in sequenza, che il pernire nominò Tempio A. Il vano principale dell'edificio aveva nella sua parte centrale un focolare o escara di pianta rettangolare. Davanti alla facciata giacevano i frammenti di un grande pitos con la rappresentazione di una potnia hippon o signora dei cavalli. Accanto a questo edificio venera un secondo, con caratteristiche architettoniche simili ma dotato di un terzo ambiente, che il pernire denominò opistodomo, ma che più correttamente, essendo chiuso, andrà identificato come Aditon. I frammenti di sculture rinvenuti in connessione con l'edificio A appartenevano almeno a due diversi gruppi. Si trattava di due statue di identità femminile con polos, collocate al di sopra di un architrave decorato con teorie di animali incedenti, e nella faccia inferiore con altre figure femminili. Il secondo gruppo era costituito invece da diverse lastre che formavano un freggio continuo con una teoria di cavalieri su cavalli dalle lunghe zampe. Altri frammenti con una decorazione a squame facevano pensare alla presenza di figure di sfingi pertinenti alla decorazione architettonica del tempio. La ricostruzione dell'edificio e il suo significato nella storia dell'architettura e dell'arte greca arcaica fu un oggetto di un lungo articolo pubblicato nel primo volume dell'annuario della da poco costituita scuola archeologica italiana di Atene. Pernier, coadivato nelle sue ricostruzioni dello Stefani, suppose che le due statue di divinità femminile fossero collocate sull'architrave della porta che dal cosiddetto prona o conduce alla sala principale con le scale e che il freggio dei cavalieri si trovasse invece in alto sulla facciata. Sul tetto, piano, collocava due croteri in forma di figure di sfingi. La ricostruzione per Nier Stefani è rimasta quella classica e maggiormente eseguita e si trova in quasi tutti i manuali di arte greca, alimentando in maniera sostanziale il dibattito circa il ruolo di Creta nell'elaborazione della decorazione templare e in genere nel processo di formazione dell'arte greca. Essa ha dato però luogo a diverse perplessità, cui sono seguite altre proposte di ricostruzione e perfino tentativi di riconoscere la natura templare dei due edifici A e B. Un team di ricerca del CNR di Catania da anni sta verificando la possibilità di proporre una restituzione alternativa dell'edificio, a partire anche da altre testimonianze scultore rinvenute nelle recenti campagne di scavo. Nel 1933 Margherita Guarducci propose di identificare il sito della padella di Pregnasse con la città di Rizzenia-Oritenia, menzionata in un'epigrafe Gortinia che trascrive il trattato fra le due città, del quale una copia doveva essere conservato nel Tempio di Atena della città di Rizzenia per l'appunto. L'ipotesi si basa sulla presenza, a primias, delle iscrizioni con dedica ad Atena provenienti dalla fortezza e su di un frammento di epigrafe dalla padella su cui si legge Zeni. L'ipotesi appare però poco probabile in quanto nel V secolo, data del trattato fra le due città, sulla padella non c'è nessuna testimonianza di vita. Le iscrizioni con dedica, inoltre, si riferiscono al tardo e isolato episodio di occupazione, testimoniato dalla fortezza ellenistica e non sono certe indicative dell'esistenza di una città nel V secolo a.C. Per più di 50 anni dopo lo scavo di Pernier, nessuna attività archeologica si svolse sulla patela, salvo qualche piccolo intervento di tutela. Tuttavia, nel 1957, nel corso della costruzione della strada moderna che porta in direzione del vicino paese di Asites e di là a Heraglion, i lavori stradali misero in luce una piccola costruzione di incerto carattere e cronologia nella quale si trovavano riutilizzate numerose steli funerarie, evidentemente provenienti dalla vicina necropoli, sulle quali erano incise figure di guerriero o, più raramente, personaggi femminili, confrontabili con quelle rinvenute da Pernier nell'area della fortezza e al di sotto di esse, e databili dalla seconda metà del VII secolo a.C. Nel 1969 Giovanni Rizza dell'Università di Catania, che aveva già lavorato a Gordina studiando e pubblicando le statuette dedaliche della stipe dell'acropoli, scelse, d'accordo con Dodo Levi, allora direttore della Scuola archeologica italiana di Atene, la patela di Prinias, come oggetto di nuove esplorazioni, con l'intento di effettuarvi ricerche sul tema della formazione della civiltà greca e dell'origine dell'arte greca. Le ricerche, iniziate lungo il margine orientale della patela, dove egli identificò un camminamento di origine naturale, ma riadattato dalla mano umana a partire da una lunga spaccatura nella roccia e diversi ambienti ricavati sul fianco della collina, permisero il ritrovamento di un altro frammento pertinente al freggio dei cavalieri scoperto da Pernier. La scoperta più cospicua di quel primo anno di scavi fu però l'identificazione della grande necropoli arcaica, che si disponeva intorno a una collinetta tagliata in due dall'impianto della strada moderna già ricordata, posta a circa 300 metri in linea d'aria a nord della patela, in località Siderospiria. Gli scavi hanno rivelato inoltre che la collinetta, prima di essere sede della necropoli, aveva ospitato un piccolo insediamento del Neolitico Tardo e di periodo antico-minoico, a cui forse fanno riferimento i resti di quella che sembra essere una grande tomba circolare, tipo Messalà, successivamente trasformata in recinto funerario per ospitare sepolture più tardi a partire dal primo momento di vita dell'insediamento nel Tardo Minoico III C. La presenza di questa antica sepoltura monumentale ha forse determinato la continuità d'uso del sito come area di sepoltura, anche se la sua collocazione, al di là di vari scoscendimenti, la rendeva di uso certamente diseggevole per gli abitanti della città arcaica. L'esplorazione della necropoli impegnò gli anni dal 1970 al 1978, con l'eccezione del 1975, allorché furono ripresi gli scavi nell'area dei Templi A e B sulla Patela. Rivelò centinaia di deposizioni, divise in due grandi fasi cronologiche. La prima, che va dal XII alla fine del IX inizio VIII secolo, caratterizzata dalla presenza di tombe a camera o a tolos, la seconda, composta da incinerazioni singole, deposta all'interno della massicciata di pieprame da età geometrica al VI secolo a.C. I risultati dello scavo della necropoli, che fino ad ora sono rimasti sostanzialmente inediti, hanno richiesto un lungo periodo di tempo per restaurare e documentare le migliaia di oggetti che sono stati recuperati, i reperti biologici e tutto ciò che da essa proviene. Oggi sono in fase finale di studio con l'obiettivo di pubblicarne in maniera dettagliata i risultati. Dal 1986 in poi la missione dell'Università di Catania, condotta insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha operato sistematicamente nell'area della città antica, che è stata interamente acquisita al demanio greco. Gli scavi, effettuati prevalentemente in superficie, hanno tolto i templi pernieri dall'isolamento nel quale sembravano essere confinati e hanno rivelato invece come essi, al contrario, si esteriscono in un fitto tessuto urbano. Le ricerche, fino al 2000, sono state pubblicate da Giovanni Rizza in un volume interamente dedicato agli scavi della Patela. Dal 2000 in poi gli scavi diretti dal sottoscritto sono stati sistematicamente pubblicati in relazioni preliminari apparse nell'annuario della Scuola archeologica italiana di Atene e nella rivista Creta Antiche. Queste campagne di scavo hanno approfondito la conoscenza stratigrafica del sito, precisando le varie fasi di vita. L'occupazione della città ha inizio nel Tardo Minoico III C, un grande deposito di questo periodo, in realtà sub-minoica, molto ricco di ceramica ma del tutto privo di strutture, si estende nella parte centrale dell'abitato, che sembra essere in questo periodo una grande area aperta, sede probabilmente di attività civica o religiosa. In diversi punti della Patela si sono trovate tracce di età aree sacre e di età tardo-minoica. La più importante rimane tuttavia quella del margine orientale da cui provengono le statue recuperate da Halber e da Pernier. Scavi effettuati in quel punto nel 1996 hanno mostrato che, quando furono demoliti gli edifici sacri che dovevano contenere questi materiali votivi, essi furono sepolti in una profonda spaccatura della roccia e nell'area fu costruito un ambiente con escala centrale, anch'esso di carattere votivo, a giudicare dei materiali che si recuperarono nello scasso interno che rimaneva. Molto esigue le tracce di insediamento di età protogeometrica, particolarmente rilevanti quelle rinvenute al di sotto del Tempio A, consistenti in fossette scavate nel terreno, contenenti resti di attività cultuale, testimoniate da una statuetta di tipo colonnare e non bel critere accuratamente tagliato in pezzi. Nel corso dell'VIII secolo la situazione cambia radicalmente e la superficie della patella viene ricoperta da un tessuto urbano uniforme che ha il suo centro nell'area dei templi Pernier, a sud dei quali si trovano altri due edifici di simile orientamento. Davanti ad essi un piazzale aperto delimitato da este ed altri edifici, probabilmente di carattere pubblico, locali per la preparazione e consumazione di pasti in comune e privati, fungeva da piccola agorà. È probabile che la realizzazione di questo nuovo impianto unitario sia in contemporanea con la seconda fase della necropoli. Lo abbiamo denominato la città degli oligarchi, in quanto lo spazio urbano sembrerebbe essere ripartito in questa fase in unità abitative ognuna sede di un gruppo familiare o genos. Particolarmente significativo il grande edificio monumentale che chiude a sud la sequenza degli edifici pubblici, di grandi dimensioni, 21 metri per 6 e di impostazione, si potrebbe dire templare, ha due chiarissime fasi di uso. La prima dell'ottavo-settimo secolo a.C. e la seconda tardo-orientalizzante. È composto da un plonaros con due robusti e bassi muri di facciata, una grande sala centrale in origine con escala rettangolare al centro, e da un aditon che probabilmente aveva una funzione cultuale in quanto conservava un simbolo religioso formato da tre stelle in pietra collocate sulla parete di fondo. Quest'ultimo ambiente conservò la sua funzione anche nella seconda fase, mentre la sala centrale mutò di destinazione nell'ultima fase e venne adibita probabilmente ad attività artigianali. Abbiamo fatto l'ipotesi che il mutamento di destinazione che si può constatare in questo edificio, che in origine sembra essere stato costruito per adempiere una precisa funzione di carattere pubblico, possa essere messa in relazione con la costruzione del vicino tempio a, la cui realizzazione, che per la sua ricchezza e complessità deve aver richiesto lo sforzo congiunto dell'intero corpo civico, segna probabilmente la nascita di una nuova entità politica, forse la polis. Il sito arcaico della Patela, dove tutti gli scavi che vi sono stati finora effettuati, si può dire che abbia appena cominciato a restituire elementi per la ricostruzione storica delle sue vicende. La concomitanza della documentazione di abitate necropoli, che ne fa un caso praticamente unico fra le città finora conosciute dell'isola, la ricchezza della sua produzione artistica e artigianale, testimoniata anche da complessi produttivi perfettamente conservati come quello della mandra dei giperi, l'interesse e il buono stato di conservazione delle sue strutture, che si prestano all'interpretazione delle loro funzioni, lasciano sperare che ancora per molti anni esso possa continuare a fornire ai suoi esploratori elementi per una migliore comprensione delle sue vicende storiche e di quella dell'intera creta arcaica, la cui conoscenza in mancanza di fonti scritti rimane quasi per intero affidata alla ricerca archeologica. Grazie. 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 Grazie.